Nome e cognome? Francesca Folli. Soprannome? Fra. Età? 20. Studentessa di? Informatica per il Management. Laura prevista per? Spero fra due anni. Sport e ruolo? Pallavolo o banda. Atleta a cui ti ispiri? Senza dubbio Matteo Folli, capitano della squadra Cusb, Cusbologna del basket. Pregio e difetto? Sono sincera e difetto a volte anche forse troppo. Cosa ti dicono più spesso? Che devo avere più pazienza. Genere musicale che ascolti prima del match? Abbiamo una playlist prepartita decisamente da Marra. Vittoria più bella vestendo la maglia Cusb. Medaglia d'oro ai campionati europei universitari all'Ox 2022. Il mondo Cusb è? Un mondo per tutti ma non da tutti. Fammi la faccia da Cusb.